Anche a Pescara si è svolta la protesta delle pentole vuote, mobilitazione promossa dalle associazioni dei consumatori contro le speculazioni, gli aumenti ingiustificati dei prezzi ed il carovita con iniziative che questa mattina hanno riguardato più città italiane. Per quanto riguarda la manifestazione di Pescara, oltre agli aderenti di Adoc e Adiconsum, hanno partecipato alla manifestazione le associazioni Feder Consumatori e No Green Pass. Al termine i rappresentanti sono stati ricevuti dal prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo. Che nelle pentole non c'è più niente da mettere. Noi abbiamo messo gli scontrini per testimoniare una valanga di aumenti a 360 gradi che sta travolgendo le famiglie italiane. In questo momento sta avvenendo aumenti del 60-70% per l'olio, 16% della pasta, farina, burro, margarina, ristoranti, parrucchieri, tutto, 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 tutto. Quindi una valanga. Questa è l'immagine che ci è venuta in mente. D'altra parte siamo qui oggi per protestare, sensibilizzare la politica nazionale, locale, affinché prendano atto di quello che sta succedendo e facciano qualcosa per impedirlo. E quindi siamo purtroppo anche stati trascurati dal cattivo tempo ma non ci arrendiamo. Questa è una manifestazione che dovremmo continuare a fare. Quello che facciamo tutti i giorni nelle nostre sedi è raccogliere le proteste dei cittadini. Già parte da qualche tempo, già siamo qui ma il problema è partito con le bollette. Luce, gas, bollette del 60-70% aumentate rispetto ad un anno fa. I dati Istat prodotti alla fine di maggio dicono questo. Quindi portiamo questa protesta oggi e diciamo alla politica. Ascoltateci perché temiamo il peggio. Temiamo che la situazione possa peggiorare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Ecco perché oggi c'è stato questo tappo.